A Natale ritorna il giocattolo sospeso. Puoi contribuire anche tu con un regalo che sarà donato a un bambino della città. È l'occasione per un gesto solidale che può aglietare le feste di una famiglia in difficoltà. Si può partecipare acquistando un libro o un giocattolo in uno dei negozi che aderiscono all'iniziativa. L'elenco è su www.comune.napoli.it oppure facendo una donazione sul sito unpaniereperte.it slash giochi. I regali resteranno al negozio e saranno consegnati ai bambini seguiti dai servizi socioeducativi del comune. Giocattolo sospeso può essere una bella occasione per permettere a tutti noi di compiere un gesto che per quanto banale ci possa sembrarci può essere invece un'occasione per rendere felici tanti bambini e bambine della nostra città. Anche quest'anno ci sarà il giocattolo sospeso. È possibile aderire e mi raccomando numerosi dovete essere attraverso il portale del comune di Napoli dove troverete l'elenco di tutte le cartolibrerie e dei giocattolai che hanno aderito al progetto oppure sul portale www.ilpaniere.it slash giocattolo. Il giocattolo è un diritto di ogni bambino. Giocare è una cosa importante e noi daremo a questo Natale la possibilità a tanti bambini di avere un giocattolo o un libro nuovo. Mi raccomando dovete essere numerosi. Giocare è un'occasione, sul luogo di Napoli, con una possibilità di essere numerosi in Europa. Un'occasione è un'occasione, è un'occasione e